Amici sportivi di MondofutsalTV e di ZonaPontina.com benvenuti alla finale della Zona Pontina League Olimpo della birra contro carrozzeria artigianato Bonpanna Io sono Stefano Scala e con me sono in compagnia dello zio Claudio Meschino E commenteremo insieme questa finalissima della... Adesso è arrivato un altro grande protagonista della Zona Pontina League Siamo quindi in tre con Mario Tiberi E commenteremo insieme la finale della Zona Pontina League Abbiamo detto si affronteranno Olimpo della birra contro carrozzeria artigianato Bonpanna Intanto passiamo proprio a Meschino, grande eliminare l'assente di lusso di questa semifinale Vediamo un po' com'è stata questa... com'è stata digerita questa eliminazione zio Buonasera a tutti gli amici ascoltatori Purtroppo ahimè mi tocca commentare la finale perché in semifinale Olimpo Diciamo la verità, ha meritato Di passare e cresce l'attesa per questa finalissima Dove vedo sinceramente favorita Bonpanna parla l'albo d'oro Però sai, chissà, magari una sorpresa ci smentirà Vediamo E servirà una sorpresa infatti per vedere vincere Olimpo della birra che ha dalla sua un passato davvero negativo Soprattutto con questa squadra, ha perso la finale della Zona Pontina Summer l'anno scorso Tre semifinali delle Zona Pontina K invece, due volte l'edizione invernale, una volta l'edizione estiva E quindi cercano il primo trofeo delle manifestazioni targate Partiamo con le formazioni, partiamo proprio dall'Olimpo della birra che partirà con Mario Napolitano Trepali Diego Martucci, Federico Lucon, Davide Napolitano e Fabrizio Chieregatti Dall'altra parte invece in porta Armando Laurora, Luca Rogato, Luca Fusco, Francesco Zofrea E vediamo Riccardo Ciocca, grande protagonista dell'edizione estiva dello scorso anno In panchina vediamo tra le fila di Artigianato Bonpanna il pluridecorato Emanuele Farelli Il capitano Luca e Paolo Corbucci insieme a Sergio Antonelli Mentre la panchina di Artigianato Bonpanna è formata da Santoro Rumito e Pierpaolo Racciatti Grande protagonista della semifinale, sentiamo anche la voce di Giampiero De Renzi Lo speaker ufficiale della finale Zona Pontina League È tutto pronto, aspettiamo solo il fischio di Robert Scarica Partiti Palla subito per Artigianato Bonpanna con Rogato Pallone per Fusco Subito chiusa la formazione dell'Olimpo della birra Vediamo Fusco sulla sinistra, è subito un errore del giocatore Maia Blu Palla quindi per Mario Napolitano Si ricomincia quindi da Diego Martucci Chieregatti per Davide Napolitano Fraseggiano nella propria metà campo I ragazzi dell'Olimpo della birra Pallone ancora Martucci in posizione di ultimo Sulla destra per Chieregatti Esce fuori intatto sciocca, passaggio sbagliato di Martucci Quindi Zofrea Subito allarga sulla destra per Rogato Interviene Martucci, prova a ripartire l'Olimpo Davide Napolitano ancora per Martucci Claudio, diciamo che siamo partiti col freno a mano tirato Vabbè com'è giusto in fondo, è una finale, due squadre ancora si stanno studiando E quindi vediamo, penso che ancora ci vorrà un po' del tempo per vedere un po' di spettacolo Ci tengo intanto a precisare che qui Vicino alle telecamere di Mondofuzza TV Siamo in trema, c'è una persona che non vuole Ha deciso di silenzio stampa E quindi Rimaniamo in due a commentare questa partita Salutiamo il grande assente di questa telecrona Di questo commento tecnico Alessio Necchiarico Che non è potuto essere con noi qui In questa finale Intanto il primo tiro in porta È di Luca Rogato Deviazione della retroguardia dell'Olimpo della Birra E quindi il primo calcio d'angolo della partita sarà Per carrozzeria, artigian auto, bon pan Sul pallone sciocca Va a cercare subito Zofrea Cerca l'antissimo E invece è Martucci Perde palla Napolitano Ancora Zofrea Cerca sciocca Ma Chieregatti difende molto bene la sfera Quindi si riparte da Mario Napolitano E va a cercare subito Il fratello Davide Ma è Fusco Intervenire con il destro Ottimo intervento di Zofrea Spazza Diego Martucci Quindi palla per l'Aurora Sulla destra per Rogato Cerca di alzare il ritmo Numero 4 di Bonpan Doppio dribbling Si riparte da Fusco Zofrea Anche lui cerca di caricare il destro Poi perde il pallone Interviene Ciocca Di nuovo Rogato Siamo qui comunque con Claudio Meschino Che conosce molto bene Le due squadre Perché Ricordiamo che la stagione invernale Si è conclusa Con Bonpan Al primo posto Proprio gli amici di Zio Al secondo L'Olimpo della Bira In terza posizione Tre squadre In pochissimi punti Claudio È stata una lotta Fino alla fine Eh si Certamente L'Olimpo Sinceramente Mi ha stupito Soprattutto contro di noi La loro intelligenza tattica La loro presenza in campo Quindi alla fine È stata veramente Una semifinale dura Abbiamo un po' pagato Magari le fatiche Di tutto questo campionato Però Bonpan Non aveva dubbi Che arrivasse in finale E Buon per l'Olimpo Che ha raggiunto Il meglio che poteva In realtà attenzione a Ciocca Il suo diritto intercettato Da Chi regatti Il primo fallo è proprio Del numero tre di Bonpan Fischia Scarica Palla per l'Olimpo Sì è stata una stagione Veramente Dura Dura Stava un bellissimo campionato Sinceramente Noi abbiamo battuto Bonpan Proprio all'esordio E poi con l'Olimpo Abbiamo vinto sia l'andata E a ritorno abbiamo pareggiato All'ultimo secondo Ci hanno pareggiato Però ecco Potevamo Magari ambire alla finale Buon per loro Ecco anche il primo Tiro in porta Dell'Olimpo della birra Di Davide Napolitano Ma l'aurora Para con i piedi La conclusione centrale Del numero sei Dei bianchi Ricordando quindi Questa stagione invernale Sicuramente C'è tanta amarezza Per aver sfiorato Comunque il primo posto Che poteva essere Poteva dare uno slancio Diverso in questi playoff Beh sicuramente Anche se comunque La quarta classificata In quel caso Non Anna Era veramente Una buona squadra Tant'è che Bonpan Ha vinto Ma soffrendo Fino all'ultimo Ritorniamo in telecronaca Palla per Fusco Molto chiusa L'Olimpo della birra Adesso proprio Mario Napolitano Che cerca di far salire i suoi Palla adesso a Zofre Attenzione a Chiergatti Cerca l'intervento Forza e fallo L'arbitro dà vantaggio Allora Fusco Sulla sinistra Zofre C'è spazio per il tiro C'è Napolitano Che intercetta Adesso ancora Rogato Cerca lo spazio nuovamente Per il destro Riparte da Fusco Sale alto adesso L'Olimpo della birra Con Napolitano Rogato va a cercare Ciocca Interviene Martucci Sicuramente una chiave di volta Possono essere proprio Per Bonpan I tiri da fuori Attenzione adesso Rogato Grande Il suo spunto Anche il Dream League su Martucci Che sembra aver commesso fallo Infatti Direttore di gara Chiama il calcio di punizione Da posizione molto interessante Come sottolinea Giampiero Terenzi Perché per il destro di Rogato Questa può essere una zona Davvero interessantissima Anche se Dall'altra parte c'è un portiere Di grande esperienza Come Mario Napolitano Proprio adesso L'arbitro mette la barriera C'è solo Napolitano Quindi Un solo uomo in barriera Sicuramente Batte Era a Rogato Ha fischiato l'arbitro Tiro di Rogato La risposta Di Napolitano Tra i pali Si parte dalla rimessa Sempre Rogato e Fusco Nelle retrovie Gioca quasi con Un 2-2 Anche se c'è Zofrea Che Sale tra le linee Va per cercare Spesso il pallone Come in questo caso Ha trovato Fusco Fusco non sa cosa fare Rientra tutto l'Olimpo Allora si parte Di rotare a Rogato Problema per Ciocca Scambiano ancora i due Anche Fusco Sta iniziando a salire l'Olimpo Retrocede Artigiano do Bonpan Fallo laterale Sembrava in favore dell'Olimpo Almeno così Questo cercava e chiedeva Martucci Invece Si riparte con La squadra in maia blu Artigiano do Bonpan Con a Rogato Sulla destra c'è Ciocca Ma si riparte da Fusco Forza Il passaggio centrale Luca Fusco Interviene La retroguardia Dell'Olimpo della Bira Intanto vediamo Si sta scaldando Un giocatore Che spesso ha alzato La coppa di questi tornei Emanuele Farelli Una volta anche Miglior giocatore Di un'edizione invernale Dalla zona Pottina C Attenzione adesso Rogato Tutto con il destro Il tiro di sinistro Ma Napolitano Con il piede La mette fuori E di nuovo calcio d'angolo Per Bonpan Inizia a crescere La squadra Campione invernale E campione in carica Dell'edizione estiva Sofusco Prova il tiro Ancora Napolitano Intercettare Allora Chieregatti Cerca di partire Contropiede Rogato Gli si mette davanti E questi minuti Stanno Dicendo che Bonpan Sta dimostrando Il valore espresso Durante la stagione invernale Sì certamente Comunque stupisce anche La compattezza difensiva Dell'Olimpo Tant'è che secondo me Una chiave di volta Può essere il tiro da fuori Per Bonpan Perché non si riesce A passare Per via centrali Eh sì La cerniera Martucci Lucon Mette sempre in difficoltà Gli avversari Anche Soprattutto Il pivot Davide Napolitano Che torna molto E cerca sempre di chiudere Il passaggio centrale Degli avversari Adesso attenzione Palla persa Proprio Napolitano La recupera La perde nuovamente Zofrea prova L'azione personale Interviene Martucci Sembrava sul pallone Non la pensa così Robert scarica Quindi ancora un calcio Di punizione Per carrozzeria Artigiano Do Bonpan Ricordiamo che Il risultato È sempre sullo 0-0 Stavolta Ci va Ciocca Sul pallone Dopo la buona Conclusione di Rogato Ci prova il numero 3 Nella squadra Di Paolo Corbucci Tutto pronto Sempre un solo uomo In barriera Parte Ciocca Il tiro Decisamente Sballato La palla a lato Attenzione a Napolitano Cerca Davide Napolitano Ma interviene Fusco di testa Riparte con tranquillità Rogato Aspetta L'avanzamento dei compagni Adesso è tutta raccolta Nella proprietà a campo La formazione dell'Olimpo Ancora un passaggio Intercettato Da Davide Napolitano Sembrano esserci I primi cambi Dalla panchina Vediamo Farelli Da una parte Santoro dall'altra Attenzione a Chieregatti Lancia subito Napolitano Interviene Rogato Un dribbling Pallone sul destro Per Ciocca Non riesce a servire Zofrea riparte Martucci contropiede Due contro due Martucci prova a servire Davide Napolitano Interviene Fusco Pallone per Zofrea Riesce a ripiegare bene L'Olimpo Ma anche Bonpan con Fusco Guadagna un fallo Sono già Sono già tre falli Commessi dall'Olimpo Della birra Palla per Zofrea Chieregatti prova a salire Anche Napolitano Rischiano due falli Intanto Sale in cattedra Rogato Parte da solo Il fallo di Chieregatti Era partito da solo Rogato E questo giocatore Sicuramente sta facendo Già la differenza Certamente la sua velocità Sta mettendo difficoltà A retroguardi Dell'Olimpo Tant'è che Stiamo quasi al limite Del bonus Per i tiri liberi Per Bonpan Stavolta Punizione di seconda Quindi ricordiamo Che non è cumulativo Questo fallo Rogato e Fusco Rogato e Fusco Sul punto di battuta Due in barriera Stavolta Martucci e Napolitano Tiro di Fusco Adesso di nuovo Un calcio d'angolo È salita di pressione Di intensità La squadra Dei blu Dopo Dieci minuti Però il risultato Ancora 0-0 Attenzione a Zofrea Che arriva da solo Davanti a Napolitano Non riesce A trovare l'angolino giusto Adesso Napolitano Per Lucon Davanti A sé per Davide Napolitano Sta iniziando a soffrire Si chiude bene L'Olimpo Però non riesce Ad arrivare Dalle parti di L'Aurora Adesso è entrato In campo Proprio Farelli Attenzione al Contrasto Ciocca Martucci Il fallo per l'Olimpo Fino adesso Claudio Una sola occasione Per l'Olimpo Sicuramente Sta giocando meglio Bonpanno Beh sì L'Aurora Si è dovuto scomodare Soltanto una volta In effetti L'avevamo detto All'inizio Vediamo Bonpanno Favorita Soltanto ancora Non riesce A creare Grossissimi Pericoli A Napolitano Si chiudono Molto bene Vediamo un attimo L'ingresso Di Farelli Se può Sbloccare La partita Finalmente Quindi Quinto fallo Per L'Olimpo Commesso Dall'Olimpo Della Birra Sempre Tranquillità Bonpanno Con i passaggi Di Roccato Fusco Attenzione Adesso Napolitano Prova Il filtrante Attenzione Entrato Adesso Santoro Per l'Olimpo Cerca Di districarsi In mezzo A tre uomini Fusco Sbaglia L'intervento Prova Santoro Direttamente Con il destro Prova Anticipare Il movimento Sul portiere Pecca di precisione La palla Finisce fuori E adesso Palla A Farelli Abbiamo sentito Un commento Di Meschino Che Nella sua squadra Ha giocatori Del calibro Di Andrea Masiello O Pablo Setola Per non parlare Di Mario Tiberi E allora Claudio Cosa avrebbe fatto Un tuo giocatore In quest'azione Ma sicuramente Prendeva la palla E si voleva smarcare Tutta la squadra Avversaria Non ne sono sicuro Corrisponde al nome Di Pablo Setola Comunque ecco Lo saluto Visto che Ci teneva Tanto a questo torneo Ci dispiace Tantissimo Essere usciti Stiamo abbastanza Rosicando Diciamo la verità E mi unisco E mi unisco anch'io Al saluto Al driblomane Pablo Setola Torniamo In questa finale Della zona Pontina League Trofeo Easyplace Punto it Farelli intanto Per Rogato Rogato in mezzo a due Riesce sempre A muoversi Alla grande Il numero quattro Di Bonpanna Cerca lo scambio Con Farelli Alla grande Il passaggio di ritorno Del numero sette Dei blu Che poi va a commettere Fallo su Martucci Adesso iniziano a Screscere I falli anche Per Per Bonpanna Infatti Le lamentele Di L'aurora Su Farelli Sono cinque falli Anche Anche Bonpanna Il tiro libero Quindi È ad un passo Napolitano Per Lucon Si è visto poco L'esterno Di Bianchi Grande intervento Di L'aurora in uscita Ciocca parte da solo Un dribbling Prova subito il tiro Sotto le gambe Di Napolitano Ma interviene Proprio Lucon Che Va a rubare palla Sembra aver Esercitato un intervento Tra Ciocca E Lucon Ancora a terra Il difensore Dell'Olimpo Della birra Ha messo fuori Martucci Sembra essere Tutto a posto Però per la cavia Di Federico Lucon Batte Batte Ciocca E ridà il pallone All'Olimpo Della birra Anche se L'antisportivo Farelli Era già partito Alla ricerca Del gol Questi giocatori cinici Non sempre Si comportano bene Ci stupisce L'antisportività Di Farelli Veramente Un giocatore come lui L'ho visto oggi Al tribunale Veramente qualcosa Di ignobile Poserei dire Si riparte con Bonpan Fusco lancia Lancia Luca Rugato Il pallone stavolta È sbagliato E può intervenire Santoro Che va a battere La rimessa Rugato chiama i suoi Nella pressione alta Il passaggio di Santoro Per Napolitano Però è troppo forte Quindi Palla per Napolitano Attenzione all'intervento Sbagliato di Martucci Quindi Ciocca E Lucon Difende Palla Ciocca Sembrava averla persa Adesso è intervenuto Rugato Spazza Diego Martucci È il suo pezzo forte Questo E adesso quindi La rimessa Per Artigiano Tuo Bonpanno Anzi Per l'Olimpo Della birra La spazzata di Martucci È stata deviata Da un giocatore Di Bonpanni Tanto attenzione È entrato Pierpaolo Racciatti Subito Una palla persa Per Ciocca Che parte in contropiede Chiude In uscita Mario Napolitano Non è stato proprio Dei migliori L'approccio di Racciatti In questa finale Attenzione a Diego Martucci Ed il suo fallo Ai danni di Ciocca Dovrebbero essere Cinque falli Pari Parità Anche Tra i falli Quindi Al prossimo fallo Ci sarà un tiro libero La prossima scuola Che commetterà fallo Manderà sul dischetto Del tiro libero L'avversaria Sono passati 20 minuti Questa finale Della zona Pontina League Trofeo Easy Place Attenzione Napolitano Sbaglia Attenzione Adesso Napolitano Che tenta Una conclusione Leggermente Velleitaria Ma Grandissima Occasione Per Farelli Forse la migliore Di tutta La partita Di questo primo tempo Eh beh Si è sentito subito L'ingresso di Farelli In campo Nonostante la sua Antisportività Riuscita a fare Un grande numero Si era andato Spalla alla porta Ma è stato bravo Il portiere dell'Olimpo A intervenire E a evitare La capitolazione Dopo la squadra Sono palle Che di solito Gente come Mario Tiberi Non sbaglia mai Giusto Claudio? Posso confermarlo Tranquillamente È stato veramente Un grande protagonista Mario Tiberi Mi dispiace Che sta qui con noi A vedere la partita Uno come lui Merita Questa e altre finali Beh Qui parliamo comunque Delle tre squadre Che hanno dominato La stagione invernale Artigiano Bonpanna Amici di Zio Olimpo della Birra Rispettivamente Prima, seconda e terza Della stagione invernale Però Zio Ci sono state anche Delle altre squadre Che hanno saputo Far vedere Delle prestazioni importanti Anche se non A livello di queste Tre big Sì ecco Come dicevo prima Nonna Anna Mi ha stupito un po' Perché A un certo punto Era la formazione Più in forma Del campionato Anche Bar Brighetti Brighetti è stato Veramente Un osso duro Però ecco Ti ripeto Bonpanna Avevo la certezza Che vincesse La classifica Quindi arrivasse prima E noi sinceramente Ce la siamo battuta Fino alla fine E penso che Il progetto Di Amici di Zio Continuerà Un futuro Molto Rosio Beh sì Considerando la prima Apparizione E eliminazione E eliminazione Anche Il secondo anno Invece Almeno il passaggio Alla fase finale Quest'anno Il secondo posto E l'arrivo Alla semifinale L'anno prossimo Sicuramente Si punterà Qualcosa di più importante A partire magari Dall'Aspettando Linge Gallen Un'altra manifestazione Targata Zona Pottina In svolgimi Che inizierà Tra poche settimane Sul campo centrale Del Lago da Fitness Si Colgo anche l'occasione Magari se qualcuno Ci vuole Sponsorizzare Tranquillamente Noi sponsorizziamo Accettiamo qualsiasi proposta Perché comunque Gli Amici di Zio Lo Zio fa sempre Il sacrificio Economico Per i suoi Giocatori Però magari Un aiutino Non sarebbe male Nel frattempo La seconda conclusione In porta dell'Olimpo Della Birra Con il tiro di Pierpaolo Racciatti Un sinistro Che è andato di poco fuori Adesso l'intervento Di Martucci Franco Bolla Ciocca Rogato per Farelli Scambia ancora Farelli Lo stop di Rogato Prova ad andare da solo Martucci però Interviene pulito Sul pallone Cerca di lanciare Lucone in contropiede Parte in velocità Lucone Il dribbling Su Ciocca Pallone per Santoro Chiama Cerca il tiro libero Si lamentano Per il tiro libero Giotoli dell'Olimpo Attenzione Nel passaggio Di Lucone Al centro per Santoro Anticipo adesso Di Martucci Un buon momento Questo per l'Olimpo Bel passaggio Di Lucone Per Santoro Uscito L'Aurora Che poi ha lanciato Ciocca subito Contropiede Ma Martucci Non si è fatto superare Ancora un intervento Di Fusco Che lancia Ciocca Il dribbling di Ciocca È secco Interviene Santoro Ma Ciocca continua Difende il pallone Ancora un tiro E ancora Napolitano Attenzione Attenzione a Coraciocca Stoppa il pallone La mette sul destro Per Farelli Rientra sul sinistro Farelli Prova ad allargarsi Decide di ripartire Da Fusco Iniziano ad aumentare Le occasioni pericolose Di questa partita Adesso Rogato Prova a fare tutto da solo Dopo un rimpallo vinto Però Interviene Martucci E poi Mario Napolitano Lucone Lancio Sbagliato Per Santoro Attenzione adesso Subito la ribattuta Grandissimo intervento Di nuovo di Martucci Il pallone per Racciatti Niente da fare Però di poco Lungo ancora Adesso Rogato Che è rimasto In posizione di pivot Il numero di Rogato Interviene Santoro Salita di intensità Questa finale Ma ancora Non si sblocca il risultato Eh sì Chissà Magari il bonus Una delle due squadre Sta aspettando il tiro libero Per poter approfittare Però vorrei rimarcare La prova E la prestazione Di Martucci E sicuramente Secondo me È il migliore in campo Di questo primo tempo Veramente Ha difeso Alla grande La propria retroguardia Ci ha anche provato Ogni tanto Veramente È lodevole E ancora una volta Intanto Mario Napolitano Risponde presente Su una conclusione Bellissima di Rogato Un bel fendente Dalla destra Un diagonale Sul secondo pallo Con il destro Napolitano Con il piede È riuscito a deviare Ancora Rogato Ci riprova È salito Ancante da Rogato Da una parte Ma Martucci Dall'altra Si sta facendo valere Soprattutto negli anticipi Il pallone per Ciocca Si Smarca un avversario Proprio per Farelli Palo Il palo di Farelli Ancora Farelli Pericolosissimo E time out È chiamato dall'Olimpo Della Birra Perché La squadra di Paolo Corbucci È in difficoltà E la squadra di Paolo Corbucci Sta mettendo in difficoltà L'Olimpo Della Birra Adesso abbiamo visto Proprio questo palo di Farelli Su un grande scambio Con Ciocca Però Il risultato Non si sblocca Manca poco Alla fine del primo tempo L'Olimpo Della Birra Ovviamente È qui Per crederci Ragazzi Non si può dare Mezzo metro a Farelli Che Vede subito la porta Incredibile Questo giocatore Veramente Vediamo L'Olimpo Li vedo abbastanza stanchi Per difendere Comunque Per resistere Molto Hanno dato molto E li vedo molto Stanchi Questo time out Li farà sicuramente Rifiatare Beh Sicuramente Difendere Sulle folate Di Luca Rogato Emanuele Farelli Non è facile Per nessuno L'Olimpo Sta riuscendo A coprirsi Molto bene Anche se Quelle poche palle Che lascia Viene Rischia sempre Di essere Di essere punito Per fortuna Tra Mario Napolitano E i legni Il risultato Ancora sullo 0-0 Ma è sicuro Che ai punti Bonpà sarebbe Già avanti Intanto è entrato Paolo Corbucci Capitano Organizzatore Totum Di questa squadra Si posizionerà In avanti Come ha fatto Tutto questo Campionato invernale Come ha fatto Tutta la stagione Scorsa Adesso è proprio Sale per andare In pressione È entrato Romito Dall'altra parte Napolitano però Pesca molto bene Romito Va a chiedere Di nuovo il pallone Ancora Napolitano Va a mettere in mezzo L'anticipo Di Paolo Corbucci Anche qui L'Olimpo della birra Chiama il fallo Ma niente da fare Scarica non fischia Rogato Pesca molto bene Farelli Lo stop di Farelli Va sul destro Farelli Ancora Farelli Tiro E di nuovo fuori Stavolta Farelli Ha sciupato tutto Ragazzi Farelli Una, due, tre volte Sbagliare Forse la quarta Ce la farà questa volta Però sicuramente L'ingresso Di Emanuele Ha dato verve A questa squadra Vediamo Intanto proprio Tra gli spalti Vediamo Luca Corbucci Fratello di Paolo Ma soprattutto Capitano della Tina Caccio a 5 Formazione promossa Quest'anno in Serie 2 Dopo una stagione Esaltante Palla per Paolo Corbucci Martucci Interviene Prova addirittura A lanciarsi Intervento di Laurora Si riparte Contropiede Farelli Farelli Si va a trovare Preparato Si riparte Da Davide Napolitano A cercare Chiericatti Che è rientrato In campo Servizio per Romito Ma Fusco È insuperabile Errore adesso In fase di controllo Di Corbucci Permette a Napolitano Di poter ripartire Supera la metà campo Prova a servire In verticale Romito Interviene Farelli Risultato ancora Sulla 0-0 Adesso l'Olimpo Prova a farsi vedere Nella metà campo Avversaria Staziona Già da qualche minuto Nella Metà campo Attenzione Il destro Violento di Napolitano Quasi da centro campo Intervento Di Laurora Ancora Martucci Prova con il destro L'intervento di Fusco Ma Martucci Continua Ad essere Perfetto In fase di anticipo Attenzione Ancora un altro Contropiede Un buon momento Per l'Olimpo Romito Lancia Napolitano Sulla destra Napolitano E abbiamo visto Perché Armando Laurora È stato premiato Come miglior portiere Nella passata edizione Della zona Pontina League Grande intervento Di Laurora Sul destro Violento di Napolitano E questa è l'azione Più pericolosa Dell'Olimpo Calcio d'angolo Già battuto Napolitano a terra Stavolta non c'è Non ci sono nemmeno proteste Per il fallo Quindi Fusco va a battere Questo fallo laterale Questo primo tempo Si sta chiudendo Con qualche sprazzo Anche dell'Olimpo Della birra Eh sì Finalmente L'attendavamo un po' Una parata Dell'Aurora Che sicuramente È uno dei più grandi portieri Che ho visto In questi tornei Ultimamente Quindi a Latina Almeno rende la partita Il più piacevole Da vedersi Anche perché Sennò sembrava quasi Un monologo Di Bonpan Anzi Un Farelli Contro Napolitano Diciamo così Eh sì Sembrava veramente Un monologo Questo Farelli È rogato Contro Napolitano Adesso è ritornata Nella metà campo Dell'Olimpo Carrizzeria Bonpan Rogato che passa All'Aurora Stop del portiere Che lancia subito Farelli Martucci lascia scorrere Perché Mario Napolitano Può intervenire Stop di Romito È solo Pre mezzo a tre Attenzione a Farelli Che prova il contropiede Ma perde subito il pallone Si ricomincia da Fusco Sale rogato Sulla destra Ritaglia per Farelli intanto Di nuovo per Fusco Rogato cerca di farsi vedere Sta facendo movimento Anche Riccardo Ciocca Termina qui Il primo tempo Della zona Pottina League Carrozzeria Artigianato Bonpan Zero Olimpo Della birra Zero Tutto rimandato Al secondo tempo Bentornati Al centro sportivo Nuova Don Luca Finale della zona Pottina League Trofeo Easy Place Punto it Olimpo della birra Carrozzeria Artigiano Bonpan Il primo tempo è finito Zero a zero Ma tante le occasioni Per la squadra di Paolo Corbucci In maglia blu Un pallo di Farelli Tante altre Conclusioni Interventi di Mario Napolitano Diciamo è stato Un primo tempo è stato un primo tempo sicuramente a favore di Bonpan Ai punti sicuramente C'è stata una buona prova difensiva di Martucci secondo me Per ora In velocità in velocità in velocità Ci prova fino alla fine Stanno sulla destra in due Si libera i due avversari Interviene Fusco E tocca proprio Davi Napolitano Vediamo che l'Olimpo della birra si è presentato in questo secondo tempo con una formazione molto aggressiva Arracciati, Romito, Napolitano, Martucci Un solo giocatore difensivo come Martucci E due pivot come Napolitano E arracciati sulle corsie laterali E l'Olimpo deve reagire Arrimessa di Farelli Fusco, di nuovo Farelli Due si conoscono molto bene Adesso Fusco indietro per l'Aurora Aurora con i piedi Rida il pallone a Fusco Con Arrogato salgono i due giocatori dell'Olimpo Romito e Arracciati però Arrogato trova il buco per servire Farelli Cerca di andare avanti Sembra esserci fallo Attenzione adesso però subito al controbito Perché sono tre contro tre Napolitano per Romito Il tiro di Romito Ed è questa l'occasione più importante di tutta la partita per l'Olimpo della birra Grande passaggio di Napolitano per Romito Da solo davanti l'Aurora Non riesce con il sinistro A centrare lo specchio della porta Adesso lo scontro tra Arracciati e Rogato Dribbling di Rogato Secco su Arracciati Ancora una volta Mario Napolitano in uscita Salva tutto Ennesimo calcio d'angolo Per Luca Arrogato Scambio con Farelli Interviene Martucci Stavolta commette fallo Il nostro Diegone Martucci Ce la mette sempre tutta Ogni tanto Troppo irruento nei suoi interventi Ma sì va bene così Un po' alla calcio inglese Infatti ce lo vedo bene In Inghilterra questo ragazzo Magari nel Queen's Parer Ranger Che ieri ne ha presi due Al 92esimo Al 94esimo Però Ale City Che mi ha fatto anche vincere la scommessa Quindi ben venga Questi interventi Di Martucci E soprattutto Il Manchester City Qualche news domani Sentiamo il City Su Martucci Il nostro Claudio Meschino Riesce sempre A cambiare discorso E ad attenzione Perché Artigianato Bonpane è passato in vantaggio Proprio lui Luca Arrogato Il passaggio Per Arrogato Che di destro Con la punta Riesce ad infilare Mario Napolitano Che non ci vuole credere Non ci vuole credere Napolitano 1-0 Per Bonpane Si è sbloccato il risultato Direi anche Comunque Meritato questo vantaggio Anche se l'Olimpo Si chiude molto bene Sono passati pochi minuti Bonpane è in vantaggio Adesso la palla Per Arrogato Lui l'ha persa Arracciatti Va a servire Napolitano Il tiro La palla è fuori Stavolta Napolitano Poteva fare di più Poteva fare di più Il suo destro Va fuori Sull'esterno della rete Si è salvato Bonpane Poteva di nuovo Ritornare in parità Il risultato Invece Dopo 5 minuti 1-0 Carrozzeria Artigianato Bonpane Contro L'Olimpo Della birra Sale adesso Arracciatti Sulla sinistra Rienta sul destro In due sud di lui Servizio per Napolitano Costretto A indietreggiare Poi a servire Romito È intervenuto Rogato Però Napolitano Interviene ancora Il pallone per Arracciatti Tiro di Arracciatti E di nuovo L'Aurora in uscita Sono già due Grandissime occasioni Queste per l'Olimpo Non è riuscito A stoppare Benissimo Arracciatti Il pallone Facilitato l'uscita Di L'Aurora E comunque ha fatto Un grande intervento Adesso è in mezzo A due Ancora Arracciatti Interviene Fusco I due si scontrano Alla meglio il giocatore Di Bonpanna Che sale in contropiede Due contro uno Farelli Corbucci Farelli va sul destro Ancora Il servizio per Corbucci Il gol di Paolo Corbucci Il capitano Di carrozzeria Artigianato Bonpanna Raddoppia E adesso si Fa dura Per l'Olimpo Della birra Anche se sappiamo Quei giocatori Non mollano mai Ma un grande contropiede Orchestrato da Farelli Accolto Accolto In preparata La retroguardia Dell'Olimpo Adesso vediamo Che entra Lugano E fa riposare Martucci Giustamente dopo Un primo tempo Di questo livello Diego Martucci Era un po' Graffanno Sicuramente Il gol Ha sbloccato La partita Olimpo ormai Se la deve giocare A viso aperto Non può più difendersi Come ha fatto nel primo tempo E di questi Del contropiede Ne sono maestri Questi di Bonpanna Farelli Ha servito benissimo Il suo compagno Che ha trafitto Napolitano E il gol Del capitano Corbucci Non poteva mancare In questa finale Adesso Farelli Sulla sinistra Si difende dall'attacco Di Racciatti Ha spazio Sono in due contro tre Nella metà campione Olip Quindi si riparte E da Rogato Ancora Farelli Di prima per Ciocca Nella formazione Tipo Bonpanna Il tiro di Ciocca È di nuovo alto Un po' in ombra Riccardo Ciocca Grande protagonista Nella direzione estiva Anche Questo campionato invernale Questa Finalissima Però si sta facendo Vedere poco Adesso è entrato Santoro Quindi Ultimo addirittura Pierpaolo Racciatti Sulla destra Lucon A sinistra Santoro Davide Napolitano Col servito Pappo Napolitano Pallone per Lucon Prova a servire Sul secondo Pallo Santoro Il pallone però Si impenna Niente da fare Ricordiamo il risultato È 2-0 Per Bonpanna Veramente dura Adesso per L'Olimpo Ribaltare questo risultato Dopo 5 minuti Nella ripresa Il doppio vantaggio Un 1-2 Terrificante Come suggeriva Claudio Meschino Adesso Santoro Deve fare la partita Adesso l'Olimpo Perché la mia squadra È stata accusata Di avere Andrea Masiello In squadra A me Mi dispiace Però il ragazzo Fino a quando Il tribunale Non dirà Non emetterà Una sentenza Per noi È un giocatore A tutti gli effetti A lei Andrea Ti saluto Un bacio Attenzione alla punizione Il tiro di Napolitano La risposta di L'Aurora Prova Santoro Sulla ribattuta Si salva Bonpanna Con Fusco È difficile comunque Traficere da fuori Un portiere Come L'Aurora Santoro Scambio per Napolitano Scambio 3-2 Non c'è nessuno in mezzo Può ripartire Bonpanna Lo fa con Ciocca Ma perde subito il pallone Quindi Napolitano Interviene Dietro per Racciatti Racciatti sbaglia Un pallone Molto facile Adesso ancora Santoro È in difficoltà L'Olimpo Rogatto riparte Ciocca è solo Prova a fare tutto da solo Interviene Santoro Dietro ancora Niente da fare Ma la conclusione è debole Può intervenire Mario Napolitano Va a servire Racciatti Prova il break L'Olimpo Racciatti è ultimo Non deve perdere questo pallone Salgono in due Impressioni su Racciatti È in difficoltà Ma riesce a servire Molto bene Napolitano Attenzione ai secondi Per Napolitano Che ha voluto punire La nostra videocamera La nostra telecamera E ci ha centrato In pieno Lucon Riparte da Racciatti Ancora il numero Dieci Della formazione Dell'Olimpo Della birra Esce dalla linea Napolitano Che continua a correre Come un forzennato Racciatti va a servirlo Lo scambio tra i due Tiro immediato Ancora Luca Fusco Che non molla E continua A intervenire Su questi Palloni Santoro Scambia subito Con Racciatti Racciatti porta Il pallone sulla sinistra Interviene sul primo pallone Aurora Che riesce anche a mantenere Il pallone in gioco Adesso Rogato serve Subito Ciocca Difesa dell'Olimpo Impreparata Interviene Mario Napolitano Esce dalla porta Attenzione che forse Sta entrato Sergio Antonelli Per Bonpanno Scambia ancora Rogato Ciocca I numeri di Rogato Cerca Di Districarsi Tra due uomini Intervenuto Racciatti Per l'ultimo tocco Proprio del giocatore Di Bonpanno Ancora Racciatti Ennesimo passaggio Sbagliato Due contro uno Adesso sono tre Addirittura Rogato Il servizio Perciò Di nuovo Grande intervento Di Napolitano Che tiene in vita L'Olimpo Attenzione al contropiede Napolitano Per Santoro Il pallone è troppo lungo Sciupa così L'Olimpo Della birra Ma ancora Mario Napolitano Tiene in vita L'Olimpo Beh Questo portiere Si conferma Su alti livelli L'Olimpo Ora dovrà fare Un gioco Che non è congeniale Cioè quello Di attaccare Gli avversari E non aspettarli Nella propria retroguardia Ce la stanno mettendo tutta Alle Olimpo Speriamo Anche perché Io ho scommesso il gol Sinceramente Non vorrei vedere Quei miei dieci euro Buttati nel cesso E beh È giusto È giusto Credere Fino all'ultimo Nelle proprie giocate Pallone per Lucon Racciatti Lo scambio 3-2 Sulla destra Lucon In mezzo per Santoro Ha avuto l'occasione Ma è stato Providenziale Zofrea Il numero di Sciocca Che parte da solo Sta rientrando Lucon Sciocca prova Il dribbling Ancora lui È solo È intervenuto Entrato tutta Alla retroguardia Dell'Olimpo E può Uscire bene Con Racciatti Attenzione adesso Al contropiede Santoro Davide Napolitano Cerca il dribbling Ancora Davide Napolitano Tiro L'intervento Di tutta la retroguardia Dell'Olimpo Attenzione adesso Racciatti Sono in tre In tre Davanti all'Aurora Racciatti Non riesce A centrare La porta L'intervento Providenziale Prodigioso Di l'Aurora Attenzione ancora Però Perché Parte in contropiede Sciocca Sciocca è rogato C'è solo Lucon Sta rientrando Racciatti A fatica Erroraccio di rogato Che sbaglia Favorisce l'intervento Attenzione No Napolitano Grandissimo Il pallone di Napolitano Per Santoro Che sbaglia tutto Ancora l'Aurora Ma adesso i ritmi Sono altissimi Può succedere di tutto Cosa ha sbagliato L'attaccante De Bonpanna Prima Un numero alla Balotelli Quasi riverente Ha sottovalutato un po' L'avversario In quel caso Chissà se Mancini È infuriato con i suoi compagni Infuriato con i suoi compagni Infuriato con i suoi compagni Il 3 a 0 Di Francesco L'omonimo Del Qui Vicino Claudio Meschino Francesco Chiamato anche lui Lo zio Zofrea E questa è pubblicità occulta Ma di zio Lo sapete tutti Ne esiste soltanto uno Quindi Comunque Questo call Conferma la legge del calcio Chi sbaglia Sbagli un gol E subito viene punito Non doveva sbagliare Troppo l'Olimpo Certo C'è di fronte L'Aurora Che infatti Sta anche seduto Per terra Per quasi umiliare Gli avversari Ci dispiace Insomma Questa mancanza Di classe Dopo L'antisportività Di Farelli Adesso vediamo Un'altra grande Occasione di Ciocca Che è salito Di ritmo Il pallone Adesso è andato fuori Comunque abbiamo notato Questi due gravi errori Di Santoro Davanti all'Aurora Poteva riaprire la partita Invece da un suo errore È arrivato un contropiede 3 contro 2 Stavolta Napolitano Non ha potuto nulla Tra i pali Zofrea è riuscito Attenzione adesso Arrogato È solo Sta cercando qualcosa E sbaglia di nuovo Arrogato Questi due errori In altri momenti In altre partite Potrebbero costare caro Invece Per fortuna Bonpanna Resta Sulla triplo vantaggio Intervento duro Di Chiaregatti Si può ripartire Parità numerica Santoro Spallone Sbagliato E ancora Ciocca Stavolta però È rientrato Martucci Ci mette il fisico E basta Per bloccare Ciocca Scambiano Chiaregatti e Martucci La prima metà campo Servizio per Santoro Sbaglia il passaggio Santoro Rischia adesso Il fallo su Zofrea Però riesce a recuperare Palla con Chiaregatti Passaggio Per Santoro Attenzione All'ennesimo contropiede È solo Ciocca Contro Napolitano È rientrato Chiaregatti Che ha salvato Ma adesso I contropiedi Di Bonpan Sono letali Si sta salvando L'Olimpo Ma può anche Perdere la faccia Eh sì Si può anche Verificare una Goleata In questo punto Perché tutto L'Olimpo In avanti Bonpan Sono maestri Nel contropiede E a questo punto I miei dieci euro Tremano Insomma Speriamo che l'Aurora Faccia una papera Qualcosa Speriamo Bene Adesso parla per Zofrea In mezzo a due Ci prova Ci prova Esce Napolitano Che lancia immediatamente Il fratello Davide Sono tre contro due I ragazzi dell'Olimpo Santoro a spazio Va a cercare Chiaregatti Errore di Chiaregatti Davanti Dentro all'area di rigore L'Olimpo sta peccando Di precisione Nell'area di rigore Si dispera Un bomber Come Mario Tiberi Queste balle Non si possono sbagliare Lui lo sa Pallone per Rogato Antonelli Di nuovo Lancio lungo Per Chiaregatti Resce a servire Napolitano Che però Ha tre giocatori Davanti a sé Ancora Chiaregatti Il passaggio per Napolitano Tiro di Napolitano Santoro E' arrivato il gol E' arrivato il gol Del primo a festeggiare Proprio lo zio Meschino Sono arrivati Anche 16 euro 1,60 Era quotato il gol Dell'Olimpo Finalmente L'Aurora E' stato furgato Diciamo così Però E' chiaro E' un gol Che riapre Neanche troppo La partita Ormai la finale Sembra quasi Nelle mani Anzi più che Nelle mani Di Bonpan La Coppa Sicuramente Carrozzeria Bonpan Con questo 3-1 Sta sognando Il double Tra campione invernale E playoff Ma attenzione Adesso a questo contropiede Di nuovo Davide Napolitano Chiaregatti Il tiro di Chiaregatti Salva tutto Zofrea L'Olimpo della Bira Non mola mai Ci crede Anche perché le occasioni Sbaglia sono state tante Quindi può sempre uscire Un'altra occasione Ed arriva adesso Il gol di Santoro La doppietta di Santoro Dopo due errori clamorosi Il gol Che riapre la partita Come sottolinea Giampiero Terenzi Olimpo della Bira 2 Bonpan Carrozzeria Artigiano Bonpan 3 E adesso Qualsiasi cosa Può pesare Antonelli Le retrovie Sembrava finita Come Tutti pensavano Attenzione a Zofrea Di nuovo un contropiede Di nuovo superiorità numerica Martucci non riesce a servire Il suo compagno Ma perde il pallone Attenzione adesso Perché Rogato Può fare male Va sulla sinistra Mette in mezzo Non arriva Ciocca Si salva Si salva l'Olimpo Si salva l'Olimpo Sta rientrato adesso Martucci Ha fatto un grande anticipo Adesso è uscito Antonelli Per Luca Fusco Martucci Passaggio non proprio preciso Per Santoro Un po' stanco l'Olimpo Ma deve crederci Proprio adesso Che è riuscito A riaprire questa partita Napolitano Sbaglia Prova a portarsi il pallone Sul destro Attenzione ancora Santoro È difficile Trovare uno spazio In questa Cerniera difensiva Chieretti Prova a sorprendere Zofrea Adesso Santoro Sale proprio Chiere Gatti Il tiro di Santoro Però è totalmente sballato Adesso è obbligatorio Salire sul portatore La pressione è alta Bisogna seguire tutti gli uomini Ma La stanchezza sicuramente Si fa sentire Martucci Enesimo intervento Adesso Ciocca In mezzo a due Ancora di nuovo Martucci Incredibile la partita Di Diego Martucci Mario Napolitano Tra i pali Va a lanciare proprio il fratello Lo stop Perfetto Scambio tra i due Prova il destro Ci pensa Zofrea Ma l'Olimpo della birra Adesso sta meritando Sta giocando Sicuramente Nel momento in cui Diego Martucci È stato in panchina L'Olimpo ha sofferto Eh beh sì Finalmente il rientro Di Martucci Ha dato più Compattezza Un po' più di ordine A questa squadra E a sorpresa Hanno riaperto Questa partita Che sembrava veramente In cassaforte Per Bonpan Buono per lo spettacolo E buono anche Sicuramente Per le signore Che vogliono fare Tanti panini Con le salsicce Fuori dal campo Perché i ragazzi Stanno veramente Dando tantissimo Attenzione al contropiede Martucci Di nuovo passaggio L'appoggio sbagliato di Martucci Aveva sbagliato adesso Santoro Martucci Però nell'appoggio Non riesce ad essere preciso Come negli anticipi E adesso risale ancora L'Olimpo Fusco Zofrea Salgono male Per i giocatori dell'Olimpo E questo può Permettere il contropiede Dell'Olimpo Di Bonpan Attenzione a Zofrea Pressato Interviene l'Aurora Sembrava doppio intervento Almeno questo Chiede Martucci Ancora un intervento Di Martucci Di nuovo 3 contro 2 Santoro serve Ghieregatti Pallone per Napolitano Attenzione all'occasione Di Davide Napolitano Ma Armando l'Aurora Interviene Proprio sotto la traversa Smanaccia E questo Olimpo Sta facendo paura E ci crede Ci crede l'Olimpo Vramente Abbiamo appena saputo Dara Ragliola La clausola escessoria Di Martucci È fissata 5 milioni di euro Chi lo vuole Veramente dovrà sborsare Questi soldi Ma sono ben investiti Vramente Intanto è rientrato in campo Per Paolo Racciatti Si aspetta il graffio Del numero 10 Dell'Olimpo Adesso un po' in ombra Ancora Martucci Nell'intervento Però È arrivato Zofrea Che si è lanciato Sbagliando Mancano 5 minuti Alla fine di questa finale Da zona Pottina League Bonpanna 3 Olimpo Della birra 2 Una finale Ancora apertissima L'Olimpo È riuscito A riprendere Una partita incredibile Attenzione Napolitano Dal pallone A Chiaregatti Si chiude Sempre benissimo Lo Bonpanna Martucci Di nuovo Per Napolitano Cercano Spazio Attenzione Racciatti Il drible di Racciatti Il tiro La deviazione L'ennesima di Fusco Intanto Esce Fabrizio Chiaregatti Ed entra Federico Lucon Va a riprendere Sul calcio d'angolo Racciatti Stop Sbagliato di Racciatti Adesso Fusco A battere questo fallo Lo batte Farelli invece Lancio lungo È in difficoltà Bonpanna È in difficoltà Adesso Napolitano Cerca però Un passaggio Abbastanza Difficile Adesso È l'Aurora L'intervento Di nuovo Di Martucci Che sta facendo Di tutto Intanto Il cambio Di Napolitano Sorprende tutti Perché Federico Lucon Era appena entrato È subito uscito Chissà cosa Gli è passato nella testa Napolitano Attenzione a Ciocca Che stava per fare Un euro goal È intervenuto Però la difesa Dell'Olimpo Tutti su Napolitano Deve scaricare Non lo fa Ignora tutti Prova adesso A giocare da terra E ovviamente Scarica Fischia Ah no Invece L'arbitro Ha fischiato il fallo Noi invece è proprio Come avevamo detto Il gioco da terra Punito Quindi palla per Farelli Quarto fallo Sottolinea Roberts carica Quindi Farelli Farelli è pronto Alla battuta Mancano pochissimi minuti L'Olimpo Ci deve provare Lancio lungo Perrogato Che fa uno stop assurdo Stava per mantenere capo Il pallone Con una prudezza E invece niente da fare Adesso sta È già rientrato Nella prima Dal campo Ma Napolitano Riesce a servire Il fratello Molto bene Il tiro di Racciatti Deviato Ci ha provato Attenzione adesso Al contropiede Ma Martucci È insuperabile Giustamente Scarica Tiro per Racciatti Racciatti Forza ancora Il passaggio centrale Sul Napolitano Ciocca Il dribbling È perfetto Però interviene Santoro Palla di nuovo Per Napolitano Lancio di nuovo Lungo Interviene Interviene L'Aurora Il fallo Di Sembra aver fischiato Fallo Martucci Il contrasto Da Martucci E l'Aurora Vediamo cosa Ha fischiato Dovrebbe aver fischiato Fallo Per La carrozzeria Bonpan Martucci Comunque Veramente Il migliore in campo Martucci Si è già Inmedesimato Nella mentalità inglese Va A attaccare Qualsiasi fallone Per lui Non era fallo Però lo possiamo Confermare Era fallo Tra l'altro Vorrei anche Tutto Mi è appena arrivato Un messaggio Dal Da un mio compagno Di squadra Claudio Rosavane Che Coglie l'occasione Per ringraziare Comunque L'organizzatore Stefano Scala Anche perché Questo torneo Ha avuto anche È stato anche invitato Però purtroppo Impegni Extralaborativi Non l'hanno potuto Vedere Protagonista Però Attenzione adesso Allo scambio veloce Abbiamo interrotto Lo zio sul momento Più bello Ma Questa azione Meritava Adesso Ciocca Dall'altra parte L'errore Prova il contropiede Che non riesce Quindi Racciati Fa salire Vanno tutte e due Surrogato Che riesce a servire Molto bene Ciocca Ancora Ciocca Che prova a lanciarsi L'intervento di Martucci Però È perfetto Se è in fase difensiva Insuperabile Anche se è in fase Di costruzione Pecca molto Farelli Proprio Martucci Per Napolitano Avrebbe spazio Il numero Sei Dell'Olimpo Stavolta sbaglia Forse è stanco Il pivot Dei bianchi È in due Su Farelli L'intervento di Racciati Prova a Mantenerlo con il problema Racciati Attenzione Ci aveva creduto Qui l'Olimpo Perché Farelli stava Perdendo palla Racciati forse Troppo in ruento Attenzione a Fusco Parone per Ciocca Partono in due Perché Santoro Ha perso Rogato Ma la puntata di Ciocca È sbagliata Sbagliato Anche il passaggio Di Napolitano E a pochi minuti Dalla fine Si fa sentire La stanchezza Fallo adesso Di Racciati Su Ciocca Questo era Era netto Claudio Sì Racciati L'ho visto un po' In ombra In questa partita Purtroppo Per l'Olimpo Della birra Peccato Perché Si è perso Un grande protagonista Che poteva essere Molto più decisivo In questa gara Chissà Magari Ora mi smentirà Con un euro goal Dei suoi Però Intanto Ha fatto fallo Ed è tiro libero Per Bonpan Eh sì Si può tornare Sul più due Questo tiro libero A pochi minuti Dalla fine Della partita Può decidere L'incontro Riccardo Ciocca Contro Mario Napolitano In destro di Ciocca Mario Napolitano La para ancora La para ancora Continua a mantenere Viva questa squadra Troppi errori Sottoporta Lui ha fatto Il possibile Adesso Ciocca Va Difendere il pallone All'attesa Del calcio d'angolo Ancora Ciocca In mezzo A tre Interviene Racciatti Attenzione Al tre contro due Contropiede Però Napolitano Non riesce a stoppare bene Sbaglia assolutamente Il passaggio Contropiede nuovo Del artigiano Do Bonpanna Farelli Errore Clamoroso ancora Di Farelli Sale Napolitano Portiere di movimento E questo è fallo Questo è fallo Sul portiere Dell'Olimpo Della birra Cerca di dare la scossa Proprio il capitano Mario Napolitano Questo fallo Martucci Per Santoro Nella propria Metà campo Bonpanna Attenzione Santoro Ci prova Manca un minuto Intanto Un minuto di recupero Concesso da Robert Scarica Sale anche il portiere Sale anche Napolitano Attenzione Il pallone Era perfetto Per Santoro E sfuma così Un'occasione pericolosissima Martucci però Da solo contro tre Riesce ad intervenire Forse qui Bonpanna Doveva fare di più E beh Però comunque Si è trovato di fronte Un certo Martucci Che ormai è veramente Sempre più Uomo Simbolo di questo Olimpo Stremato E lo vediamo Questi passaggi Veramente stremata Questa squadra Però Lode a loro Per la grande partita Che comunque hanno fatto Si Ha provato a fare di tutto Non ci è riuscito Adesso Mario Napolitano Era salito Subito Stato costretto a rientrare E finisce qui Finisce qui Carrozzeria Attigiano Do Bonpanna Si laurea Ancora una volta Campione Della zona pontina League Trofeo Easy Place Ha battuto 3 a 2 L'Olimpo Nella birra Nella finalissima E bis Cosa è successo Della scorsa stagione Nell'edizione estiva E del campionato invernale Da Stefano Scala È tutto Un saluto A Claudio Meschino E arrivederci con le telecronache Di Mondo Futsal TV A Claudio Meschino A Claudio Meschino Grazie a tutti